Dopo questa premessa di Rosato, dopo la pubblicità, diamo la parola a Chisso e a Muraro, perché è chiaro che le cose così come stanno non vanno bene, non vanno bene così come stanno le cose, perché si sono prese delle posizioni gravissime per i cinquantenni e oltre, e che altri 80.000 diventeranno ancora tanti di più e quindi dobbiamo affrontare 300.000 solo in Veneto, 300.000 a livello nazionale, quindi sostanzialmente la politica della Merkel, come più volte ho sostenuto anch'io nella piazza, non va bene per l'Italia. Guardi Presidente Monti che se lei realizza veramente la responsabilità civile dei magistrati, come ho promesso, io mi ricrederò su di lei, perché fa bene ammettere la responsabilità civile ai magistrati, fa bene far pagare anche queste persone che non riescono neppure a distinguere quello che ha detto uno da quell'altro e ho le prove, lei faccia questa azione sulla responsabilità civile dei magistrati e poi io mi ricrederò, mi ricrederò. Però quello che abbiamo detto Renato qua tante volte è che la politica della Germania non va bene per l'Italia, non va bene per l'Italia, perché questo rigore sta portando alla recessione i comuni e le province, tu ne sai qualcosa Leonardo, non possono spendere i soldi, tu sei in attivo, non li puoi spendere, la nostra gente ha bisogno di denaro per vivere. L'America sta peggio di noi, caro Loris Palmerini, l'America è peggio di noi, è pontifica e si permette di dare le indicazioni a noi. Noi abbiamo la Marianna Doimo, se me la chiamate, notizie che non trapelano da nessuna parte quello che sta succedendo negli Stati Uniti d'America. Voi non avete idea di quello che sta succedendo negli Stati Uniti d'America, altro che la crisi che c'è qui in Italia, loro sono ancora peggio di noi, ma gente che muore per le strade, di fame, negli Stati Uniti d'America e nessuno ne parla. Ci sono degli immigranti che stanno tornando a casa dalla Georgia, poi dopo la pubblicità sentiamo questa testimonianza, i migranti che tornano, che raccontano fatti di cui nessuno parla, perché in America quando perdi il posto di lavoro nessuno ti aiuta e se l'Equitalia ti porta via la casa e ti butta sulla strada perché la mette all'asta, tu non hai più casa, non hai nessuno che ti aiuta, dormi sotto i ponti e se hai fame tu muori e passano i camion alla mattina a prendere i morti. Questa è l'America, il capitalismo marcio che deve crollare questo capitalismo, pubblicità. Guardate farò una puntata quando ritornerò dopo le vacanze che vi porterò le prove degli scandali internazionali, noi stiamo regalando soldi e soldoni all'estero, caro Assessore Chisso, stiamo regalando soldi all'estero senza aver nessun ritorno. Dopo la pubblicità la regia mi manda in onda l'intervista che ho realizzato a Giovanni Piccoli oggi, Giovanni Piccoli perché lui parla anche di come fare e produrre lavoro con l'energia e con quello che abbiamo sul nostro territorio, ritornare al locale, alle banche locali, ritornare alle televisioni locali, dicono cosa serve sostenere le televisioni locali? Vergognatevi, se la regione del Veneto decide di sostenere le televisioni locali, lo fa perché le televisioni locali difendono noi tutti, non quelle nazionali, quelle palludate, quelle controllate dai grandi potentati, quelle locali che hanno tutti paura e allora se la regione del Veneto, Marino Zorzato, Dario Bond, Luca Zaia, questi uomini vogliono dare una mano alle televisioni locali, venga sempre qualche geloso e invidioso che dice cosa serve sostenere le televisioni locali? Cosa serve mandare grandi in Albania? Vi spiegherò poi alla fine cos'è servito quel viaggio in Albania. Hanno speso 20.000 Euro di cui ho avuto 16.500 Euro di spese, su 4.000 Euro, su 3.500 pago 1.700 Euro di tasse, ho guadagnato 1.700 Euro in due mesi, posso guadagnarli o no? Corriere della sera, 1.700 Euro in due mesi, vergognatevi, vi spiegherò tutto alla fine e poi vedrete, vedrete la vergogna di alcune persone che parlo perché hanno la bocca, una volta in Veneto parla come la vanvera, la vanvera poi che tagliava la testa, avevano ragione, perché bisogna attaccare la lingua al cervello prima di parlare, pubblicità. La Monte Paschi per fare un esempio ha preso dalla BCE all'1% e poi gli ha prestati 28 di questi allo Stato italiano al 6%. A 6? Quando lo Stato italiano andrebbe direttamente dalla BCE a prendersi all'1%? Esattamente. Cioè voglio dire, sto 5% in più. Un attimo però, lo può fare anche un comune, è una regione, una provincia. Devono gli enti fare una banca, io sono due anni che sto dicendo queste cose. Ma hanno ammazzato Aider su questo progetto qua. Però attenzione, le banche... Palmerini hanno ammazzato Aider su questo progetto. Devono uccidere tutte le province, tutti i comuni. Va bene, non importa. Farò una puntata su questo, quando tornerò. È stato ammazzato perché aveva questa idea. Vi racconteremo cosa faremo poi durante l'estate, sempre lavoro, sempre l'Arbeit, cara signora Merkel, i Veneti non hanno paura di lei. I Veneti sono più forti di lei, altro che l'Arbeit vostro. Noi siamo più forti di voi, non abbiamo paura. E tanto lei farà la fine di Sarkozy fra poco. La cacceranno via e rinascerà l'Europa. Quella vera, quella dei popoli. Buonanotte, alla prossima puntata. Grazie mille. 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 Grazie mille.